Lei è appena arrivato, ha dato subito il prezzo? Io pensavo fosse al calato, invece costa sempre uguale qui. In alcune zone il casentino costa 1,09, in altre zone 1,40. Qui sempre uguale, non ho capito il motivo poi da che dipende. Di aumenti recentemente si è parlato, ma non si pensava che si potesse arrivare a un 100% di aumento sul metano per auto. È successo ad Arezzo e in poche altre città. Abbiamo raccolto la testimonianza di alcuni automobilisti, dei gestori e soprattutto dell'associazione di consumatori su questo evento. La cosa che ci ha allarmati e ci ha messo la pulce nell'orecchio è proprio questo, che questo aumento abnorme e indiscriminato è avvenuto solo ad Arezzo, mentre questo aumento non si è visto in altre zone o in altre città. Noi contestiamo la vulgata che è derivante dall'aumento delle materie prime, perché l'aumento delle materie prime c'è a Firenze, come c'è a Milano, come c'è a Bologna e non si capisce perché solamente ad Arezzo il prezzo sia aumentato. E paradossalmente, incredibilmente, presso tutti i gestori afferenti a qualsiasi sigla petrolifera, non c'è una differenza. Noi abbiamo verificato materialmente, siamo andati a verificare, abbiamo visto che tutti i distributori, soprattutto quelli vicini, hanno lo stesso prezzo. Lei appena si è rifornito adesso di Mentano, ha avuto questa bella sorpresa? Sì, il doppio esatto spesso. Ma lo sapeva? Lo sapevo, però purtroppo quando finisce bisogna metterlo. Ma non ha guardato se c'erano altri distributori? No, guardi, qui a Arezzo all'incirca sono tutti uguali. Per i lavoratori, per i precari, per i pensionati, per coloro che sono più fragili, è una stangata enorme, inaspettata nel metodo. E qui vorremmo chiarire, insomma, con Feder Consumatori andremo avanti per questa strada, ricordando una cosa. Il nostro paese che è povero di strategie energetiche alternative, il 40% della nostra energia è per metano. Quindi questo è solo l'inizio, secondo il mio avviso, di una stangata ancora più ampia che dovremo sopportare. L'ho detto in altre occasioni, a questa nazione serve un piano serio, non solo per la nostra ripresa industriale, ma per dare aria alle nostre famiglie che sono veramente in ginocchio, in particolar modo con questa stangata. Allora, noi ci siamo attivati sin da subito, abbiamo segnalato la questione alla Guardia di Finanza, alla Prefettura, alla Camera di Commercio e a tutti gli enti preposti al controllo, proprio per l'enormità della situazione che si è verificata ad Arezzo. Abbiamo, nella giornata di ieri, congiuntamente alla CGL di Arezzo, segnalato la questione, abbiamo interessato gli organi regionali e nella giornata di stamani abbiamo chiesto un incontro con il Prefetto. Che domande vi fanno gli automobilisti quando vengono qua e trovano questa sorpresa? No, dicono come mai questo aumento, però noi non si sa perché, cioè non ci dicono quando, come, perché è stato questo aumento, non si sa, insomma. È capitato che qualcuno arrivasse e rinunciasse a fare il pieno? Sì, ultimamente, nei primi giorni no, ma ora sì, ora rinunciano, molti vanno a fare benzina perché gli conviene, cioè non conviene più neanche mettere il metano.